Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è venerdì 15 gennaio 2011. Vedete che strano titolo? Ritirati, vecchiaccio. Non è il primo video con dei titoli così strani. Ne sono apparsi nel passato anche analoghi, con titoli analoghi come Impiccati, Sfigato, Vecchio, Rincoglionito. Ma ce ne sono diversi, più di uno cari amici. E questo è l'ultimo, ritirati, vecchiaccio. Vecchiaccio. Perché, vedete bene qua, sul mio profilo lo potete andare a vedere, un nickname che inizia con una dà 1891. Non voglio fare neanche la fatica poi di andare a leggere come continua il nickname. 1891. 1891. Sarà un qualche ragazzetto che attraversa, come si chiama, i disagi dell'adolescenza. Magari si trova ancora nella fase, mi si passa in termini, dei foruncoli e della masturbazione, la fase masturbatoria. Si trastulla, forse, con se stesso, si trastulla. E vede questo canale, questa persona qua con la barba quasi bianca, e gli viene in mente di scrivere, appunto, una frase di questo tipo. Lui scrive che, secondo me, tu non capisci... Ah, ecco qua, lui scrive, per me sei un ignorante, non capisci nulla sulla vita e soprattutto della politica. Ritirati, vecchiaccio. Io lo capisco, questo povero giovanotto masturbatore di se stesso, capito? Lo capisco, perché deve essere terribile stare lì nella cameretta, in qualche appartamentino, magari con mamma e papà che litigano, mamma o papà si sono separati. Deve essere una cosa terribile, magari andare a scuola poi, ed essere, non dico l'ultimo della classe, ma tra gli ultimi. Allora, in qualche maniera, ci si deve pure sfogare per il fatto di essere stati messi al mondo senza averlo chiesto a nessuno. Allora, così, ritirati, vecchiaccio. Che non è neanche peggiore ad altri epitodi, no? Ad altri inviti come impiccati, sfigato, vecchio incoglionito e vivi seguito. Allora, il rapporto della vecchiaia con la gioventù è un rapporto simpatico e dialettico, perché, in fin di conti, chi sono i vecchi e i vecchiacci? Sono quelli che una volta sono stati giovani. E, in fin di conti, chi sono i giovani di oggi? Quelli che domani saranno i vecchiacci. E se noi non abbiamo il concetto che tutto passa, siamo destinati ad essere permanentemente infelici. Per esempio, questo giovane ancora, io, questo giovane, infatti, sono sicuro che è uno degli ultimi della classe, perché ancora non ha afferrato che un domani anche lui entrerà in quella che si chiama la vecchiaia. E allora, cosa fa? Anche lui, allora si potrà dire ritirati, vecchiaccio, ma lui in che senso mi dice ritirati, vecchiaccio? In che senso? Dice, ritirati dove? Da YouTube. E effettivamente, per un giovane ignorante come questo, deve essere del tutto incomprensibile che ci sia un 71enne come me su YouTube. Lui è abituato a vedere tutti i suoi poetani su YouTube, grosso modo. Mi vuoi dire che mi devo ritirare da YouTube, caro? E secondo te dove dovrei andare? Dov'è che ti fa piacere che io vada, cara? Ti basta se mi tolgo da YouTube? Sei contento? Caro, io un giorno, un giorno, una volta, fui giovane come te e sono nato il 7 febbraio 1940 e tra poco sarà il 7 febbraio 2011 per cui il 7 febbraio 2011 io compirò 71 anni essendo nato il 7 febbraio 1940. Ma forse nel 1940 non erano nati neanche i tuoi genitori, forse erano nati i tuoi nonni. Forse, forse. Quando sono nato, caro, l'Italia non era ancora entrata nella seconda guerra mondiale. Sono nato il 7 febbraio del 1940 e l'Italia entrerà nella seconda guerra mondiale mi pare il 10 giugno 1940. 7 febbraio, marzo, aprile, marzo. Io avevo tre anni di vita e tre mesi di vita quando l'Italia entrò nella seconda guerra mondiale. Tre mesi di vita. E poi ho fatto tempo a seguirla anche se ero piccolino. Ho fatto tempo a sentire gli aeroplani, i bombardamenti. Ho seguito tutti i bombardamenti. C'era la fame, c'era la borsa nera ai miei tempi. E non si trovava da mangiare. Nelle campagne, sì, c'era qualcosa nelle campagne, ma nelle città c'era la fame. E c'era la borsa nera. C'era la borsa nera. Chi aveva i soldi si comprava il cibo e chi non ce l'aveva si mangiava le bucce delle patate. Sono buone anche le bucce delle patate, caro amico, sai? Bene. Quindi ho conosciuto i cinque anni. L'ho conosciuto quasi tutti i cinque anni. Anche se i primi non avevo nessun tipo di consapevolezza. Però verso il 44-45 ho preso consapevolezza con la guerra. Abitavo a Venezia, caro amico, abitavo a Venezia tra il 44 e il 45. A Venezia ho visto le camicie nere, ho visto le SSE. Sì, anche le SSE ho visto. Di quel mio periodo di Venezia, che fu un periodo tutto particolare, e caro, caro amico tal di tali, e io ho scritto questo romanzo, Il marinaio delle Antille, e questo romanzo è ambientato tra il 1915 e il 1933. È il periodo della nascita e della morte delle S.A., delle squadre di azione, di Ernest Romm. ma alcuni capitoli di questo grande romanzo mittele europeo, direi, alcuni capitoli sono proprio ambientati a Venezia. Il capitolo iniziale è uno dei capitoli terminali. Vedi? Se vuoi, puoi andare anche tu, caro, a comprarlo, questo romanzo, così ti puoi fare un'idea e di come è stata la guerra, che questo vicchiaccio ha conosciuto quanto ancora tu non eri nato. D'accordo? Ecco qua. Questo in un certo senso non è un romanzo autobiografico, ma quasi. Non è un romanzo autobiografico, ma quasi. Va bene? Eh, caro amico? E poi dopo è finita la guerra. È finita la guerra e io ho cominciato a fare le prime elementari, le scuole elementari. poi ho fatto la scuola media la scuola media inferiore poi ho fatto la scuola media superiore e ho fatto gli studi universitari. Ma siccome i soldini c'erano pochi in famiglia, c'erano pochi, pochi soldini e io mi sono dovuto mantenere gli studi universitari facendo tanti lavori manuali. I lavori manuali quelli che tu di certo non vuoi fare, capito? Non ti piace fare i lavori manuali. Vuoi farti mantenere da mamma e papà, vero? Usque a ta mortem. Sino alla morte. E pensate che ci sono tanti bei lavori manuali che fanno per te. T'ho anche scritto sul profilo, no? Brigati a trovarti un lavoro manuale in modo che mamma e papà smettano di piangere. Perché non fanno altro che piangere mamma e papà per colpa tua. Per colpa tua. Io non so se sono ancora insieme o sono separati. Comunque l'hai sempre fatti piangere tanto perché non c'hai né voglia di studiare e neanche voglia di lavorare. E mi sono laureato. Poi mi sono laureato. Poi ho fatto il precario. L'insegnante precario, sì, perché il precariato c'era... Non è l'invenzione di oggi il precariato, sai? Il precariato c'era anche una volta, eh? o a parte il fatto che tutto è precario a questo mondo. Siamo precari anche noi perché oggi si nasce e domani si muore più precari di così. Quindi tutto è precario, capito? Comunque il cosetto precariato lavorativo c'era pure i miei tempi, eh? Uno ho fatti tanti anni di precariato. Poi ho vinto concorso a cattedre e sono diventato un docente di ruolo. Ho fatto tutta la mia carriera, ho insegnato varie discipline tra cui filosofia e storia nei licei e poi sono anche diventato preside dei licei. Ma pensa tu, cazza di carriera che ho fatto. Pensa un po' te, capo, di famiglia povera che sia chiaro. Tant'è vero che l'università l'ho fatta mantenendomi agli studi facendo dei lavori manuali, quei lavori manuali che tu non vorrai fare mai. E pensa, caro, che, caro, caro, pensa, caro, che mentre io facevo l'insegnante e poi presi di liceo, poi apparivano questi, questo è un saggio storico-linguistico, dove io documento che, per esempio, che la lingua inglese deriva quasi quasi più dal latino e dal neolatino che non dal germanico. Ma pensa un po' che tesi strana. Ma pensa un po' che tesi strana. capito? E dove dico pure che la lingua inglese o angolo-americana si sta evolvendo nel senso di una sua semplificazione avvicinando il simbolo grafico al simbolo fonetico. capito? Cioè, se stella si dice, si scrive star però la R non si dovrebbe pronunciare, non si capisce perché non si dovrebbe pronunciare, però adesso la pronuncia, non è più semplice, cioè le parole uno le dovrebbe pronunciare così come sono scritte e a forza di allargarsi l'inglese che si è internazionalizzato deve per forza semplificarsi e deve ridursi la distanza tra il simbolo grafico che è la parola così come viene scritta e il simbolo fonetico che è la parola così come viene pronunciata. Vedi caro? Questo è stato adottato persino nei corsi universitari ad indirizzo linguistico. Va bene? Eh caro? Poi dopo Pizze, siccome mi interessava tanto la questione del pensiero gnostico mi interessava tanto il pensiero gnostico e grandi gnostici nel Medioevo furono anche i catari o albicesi. Allora ho approfondito la questione e ho scritto questo romanzo La lama e la rosa vedi? Vedi caro? Aliberti Editore se lo vuoi se non lo sai Aliberti Editore è Francesco Aliberti che è anche uno dei proprietari del nuovo giornale Il Fatto Quotidiano quello che è che ha come vice direttore Marco Travaglio poi questo romanzo La lama e la rosa è piaciuto così tanto è piaciuto che è stato diciamo così preso in prestito dalla casa editrice internazionale Hachette Hachette che l'ha messo in una collana intitolato I codici segreti della storia ed è stato distribuito in tutte le edicole italiane ben due volte appunto nella collana i codici segreti della storia poi anche questo caro ti consiglio di leggere poi un'altra cosa io non avevo mai capito come mai Annibale Annibale durante la seconda guerra punica dopo aver sbaragliato tutte le religioni romane in tante battaglie al Picino alla Trebbia al Trasimeno a canne a canne a canne che carneficina non avessi occupato Roma io sono forse stato in Annibale l'avrei occupata subito Roma ormai Roma ho detto ma perché non l'ha occupata ora mi sono fatto tanti studi e alla fine ho scritto questo romanzo un romanzo storico ambientato ai tempi della seconda guerra punica il tribuno egizio vedi caro il tribuno egizio ecco e poi alla fine caro amico dulcis in fondo ho scritto un romanzo storico mitologico che 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 è un po' il light motive di questo canale di questo canale per cui avendo io questo canale che è così seguito tu non mi dovresti scrivere ritirati vecchiaccio e che lo vedi quanti giovani amici che mi seguono perché caro mi dovrei ritirare ma sei tu che dovresti avvicinarti a questi romanzi caro ed uscire dalla tua solitaria attività masturbatoria eh mettila di far piangere mamma e papà caro trovati un onesto lavoro manuale puoi andare caro a pelare le patate in un ristorante di sotto casa puoi andare a lavare i bicchieri in un bar sotto casa ti prendi 4 5 10 euro al giorno meglio poco che niente e così la smetti anche di masturbarti capito eh caro amico sapessi quante cose ci sono quando uno arriva ad essere un vecchiaccio caro io non ti invidio sai per quello che ti aspetta non ti invidio per niente io la mia parte ormai l'ho fatta quasi tutta sei tu caro e io tranquillo che ci pensa ci pensa il destino a farmi ritirare capito non c'è bisogno che te ne interessi tu tu piuttosto interessati di quel lungo pezzo di vita che ti aspetta ancora di vivere di vivere e pensa pensa a trovarti un posto di lavoro caro e se a scuola non vai bene lascia perdere lascia perdere mettiti a fare un lavoro manuale vai a tenere compagnia ai nostri fratelli stranieri e comunitari o extra comunitari ci sono tante arance da raccogliere in Italia tante olive tanti pomodori c'è bisogno di fare le pulizie ci hanno aperto tante agenzie di pulizie ma vai a fare un onesto lavoro manuale e smettila di fare l'attività masturbatoria caro amico capito smetti di far piangere mamma e papà o uno solo se stai con uno solo va bene cari amici ecco quando uno arriva a una certa età ha svolto c'è un certo numero di conoscenze e per cui capisce pure che esistono questi ragazzi che svolgono la solitaria attività della masturbazione sono pieni di foruncoli e a scuola sono gli ultimi della classe e siccome si devono sfogare scrivono queste cose caro ti ripeto se vuoi star bene a questo monto sbrigati andare a fare un onesto lavoro manuale capito manuale non nel senso della manualità che stai facendo ora manuale nel senso che ti guadagni qualche euro d'accordo e porti a termine la giornata serenamente va bene cari amici grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massone grazie a tutti